Ciao a tutti ragazzi, qui EnderGuardKey parla e bentornati in questo nuovissimo video di Paint the Town Red. Oggi siamo qui per fare l'ultimo livello. A proposito al video con la la di Terraria in cui non si sente niente, allora io ammetto che avevo il microfono forse un po' lontano, ma se voi mettevate il volume al massimo si sentiva. Però YouTube ha deciso bene di togliermi direttamente tutto il volume, perché non gli andava bene, quindi non chiederti perché, ma il volume era registrato e YouTube me l'ha cancellato. Fa anche lì, ma sta anche la chicchiando? Vabbè, perché qua ieri è passata un'intemperia, cioè una tempesta, quindi il mio wifi non sarà al massimo perché, insomma, ieri c'è stato... Calma, una tempesta veramente. Ragazzi, se cadevo veramente. Va bene, comunque siamo qui, nel bar, potremmo chiamarlo bar, e io voglio stare di sopra e andare dal pirata capitano, così vi faccio vedere anche la mia tecnica. Ciao, pirata capitano. Ti odio. Ok, bene. Momento muto, e però, vabbè, hai tirato la bottigliata. Il problema, ragazzi, è che ovviamente, quando le pistole di Pente e Town Red dicono no, io oggi non voglio giocare, combinano qua gli enormi. quindi facciamo pinta che non è successo niente e ripartiamo. Ok, forse è meglio. Crash, buongiorno, sei tu? Ok, il signor Crash se n'è andato, devo aver sbagliato, Cal. Potrei anche uccidere qualcuno col cannone. Sì, perché ci sono i cannoni, dopo vi faccio vedere tutto. Tra l'altro hanno aggiunto anche la modalità di notte. No, vabbè, queste sono detta... Se mi laghi di meno gioco, mi fai un piacere, però... Tranquillo, eh, Pente, tranquillo. Cioè... Ma, ragazzi, non ha senso questo gioco, eh. Cioè, schifo. Ho preso due persone, penso. Eeeh, boh, tu vai giù. Eeeh, la mia prima uccisione. Muori, muori. Ok, basta. Sta laggando e lui deve laggare. Basta! Gioco, calmati, non laggare. Ti supplico. Potresti non laggare? Grazie. Molto gentile. No, lui deve laggare. Sì. Ah. Ok. Vabbè, lasciamo stare. Il capitano. Io lo lascerei perdere. Ecco qua i cannoni. E andrei a rompere a questi qua. Che, boh, mi dà un fastidio. Perché loro sono qua e non devono starci. Anche tu qua non ci devi stare. Ora si romperà, ovviamente, il remo. Beh, ovviamente, quando serviva per il capitano il remo si doveva rompere, no? Eeeh, quanto è gentile questo gioco, ragazzi. Quanto è gentile. Ah, ti sto perdendo, però ti sto a far male, eh. Ti faccio anche più male se continui così. Morice. Eeeh, ho mancato, il disastro. Vabbè, no problemi. Eeeh. Oddio, il fuoco lì mi fa sempre paura. Comunque, ho una mira che è veramente, eh. È pazzesca. Eeeh, ho preso il fuoco. Bravo capitano. Lei sì che è un bravo pirata. Oh, alleluia. Allora, adesso vi posso finalmente spiegare la mia tattica. Allora, la mia tattica, aiuto, consiste nel uccidere subito il pirata capitano con una pistolettata e uccidere tutti gli altri capitani, ok? In questo modo, tutti quelli più forti moriranno. E quindi, avrete meno problemi, no? Poi, vabbè, ognuno usa la sua tecnica, eh. Se volete avere già una sciabola fin dall'inizio, eh, io potrei farla, questa cosa, ma non la faccio mai perché non sono abituato. Vi faccio velocemente vedere. Da questo lato, mi sembra, sì. Là, vedete quella roccia? Eh, praticamente, è un parkour. Se voi lo completate, alla fine ci sarà una bottiglia e una sciabola. Quindi avete una sciabola gratis. Eeeh. Eh, è che io devo uccidere l'ultimo capitano. Quindi andiamo un attimo ad ammazzarlo. Però dove sarà? Eh, qua non c'è. Vabbè, tanto è scarso. Lo puoi anche buttare in acqua, quindi me ne frego. Non è detto? Eh, scusate, scusate. C'è qualcuno che ce l'ha con me qua dentro? No, eh? Eh, vabbè, insomma. Anche se non ce l'avete con me, io vi picchio. Oh, buon salve lei capitano. Che è svenuto a terra. Perfetto. Oh, così ho tutto il tempo per uccidervi. Ci sono quei tipi che si sono girati e mi vogliono ammazzare, eh. Però, allora, proprio ce ne frega. Niente. Avevo visto la pala che avevo tirato. Quindi, pala. 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 Ah. Aiuto. C'è il milagro di nuovo. Spacco tutto. Vai in acqua. Vai in acqua. Vai in acqua. E ti scavo. Tutto ti scavo. La faccio. Anzi, la tomba. Non la faccio. Oddio, che bello. Cioè, lo spioncino. Ah. Voi via. Morici. Anche tu. Anche. Un buio. Eh. Aspetta che faccio un po' di mente locale. Non dovrebbe esserci altre sciabole. Ma eccolo qui. The heck. Abbiamo lui, ragazzi. Che è il signor Remo. Ti arriva in faccia e non te lo dimentichi per cinque mesi. Anzi, per sempre, penso. Oh, ma che gentilo. Aiuto. Come ha fatto a morire. Va bene. Mi ha portato un mannaia. Ok. Ma tu ce l'hai commessi? Vabbè. Ah. È rilassante, no? Ma c'era il capitano? Sì, mi sa che non era morto. Eh, vabbè. I problemi ci sono. Ora è morto. Comunque da un po' mi sembra che non faccio questo livello. Però, ehi. Oltre alla prima botta che mi son preso all'inizio. Che è quella che mi ha tolto tutta la vita, praticamente. Mi sembra di non aver mai preso danno. Quindi, ottimo. Cosa? Dove son finito? Sono quasi sicuro che io non dovrei trovarmi qua. Penso non sia neanche un problema. Anzi. Mi ha permesso di prendere una pala. E fare una strage. Quindi, ehi. Che bello. Peccato che con la shockwave non ho buttato giù nessuno. Scusami, questo da dove arriva? Sei morto? Sì, sei morto. Perfetto. Un coltello pulitissimo, tra l'altro. Questo ho appena comprato da l'Ikia. Secondo me. Però, vabbè. Guarda, non è sporco di sangue, di carne, di maiale. Cioè, voglio vedere. Prima di andare al piano di sopra. Che mi preoccupa assai. Vado a fare una controllatina in giro. Per vedere che non sia rimasto qualcuno là dietro. E anche là dietro. Vediamo. Qua non credo. Ma infatti. È pieno di armi, tra l'altro. Ui, lo squalo. Ho il parkour con le barche. Eccolo qua. Proprio, ti ho chiamato, caro mio, eh. Lascia stare la sedia. Bene. Vedi? Le sedie fanno male. Perché? Vabbè. Non lo so neanche io. Sto morto di cosa? Mi sa che l'ho coltellato. Madonna, santissimo. Ti merito in calcio. Solo per avermi fatto spaventare. Eh, madonna. Sono crollate le scale. Addirittura. Quanta potenza hanno questi due uomini. Le spalle. Tu sei vivo? Era vivo. Ragazzi, non devono esserci i superstiti. Apriamo la bottiglina. Che non so cosa serve la bottiglina. La bottiglietta. E... Oh, oh, oh. Ah! Wow! Questo è il divertimento. Però... Oh, sì. Stavo per dire. Non ho ucciso nessuno. Invece... Non ho ucciso uno dopo... Nera. Sei nemici. Questi sono tutti qua. Cinque. Sì, sono tutti qua. Quattro con me. Sì. Ok. Mi si è bloccato anche... Non so che cosa. Come ho fatto con un pezzo di carne. C'è questo. Mi sembra una battaglia seria. Fin quando no. È arrivato lui ed è inciampato. Guardatelo nel replay. Qua è inciampa. Aspetta. Questa è Sparta! C'è fatta! Sì! C'erano fatta col Disney Sparta. Che figa. Non c'erano mai riusciti in questa mappa. Benissimo. Stavo per saltare sul tetto. Oh, madonna. Essendo che... Questa barca... Anzi, questo buttano gli squali. Squaletti! Venite che c'è il cibo! Vabbè. Tiriamolo. Ah. Giorgetto che... Di solito nuota in quelle acque. Almeno quello. Questa barca mi piace. Eh... Sì c'è da fare un po' di pulizia. Ma non credo sia un problema. Quindi... Insomma, nessuno mi vede. In quelle barche... Non c'è nessuno. Sono anche ferme. Quindi... Via! E siamo ragazzi. Io direi che per questo video è tutto. Da qui in dergarde è tutto. E ci vediamo ad una prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Il combattimento mortale vi sia piaciuto. E... Da qui in dergarde è tutto. Ciao! 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 Ciao!